Al mio segnale, scatenate l'inferno. Chi è quello? Mi ordinano di uccidere, io uccido. Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome? Perché tu hai un nome. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato. Marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra. Conquista la folla. E conquisterai la libertà. Non vi siete divertiti! Oggi ho visto uno schiavo diventare più potente dell'imperatore di Roma. Di te mi hanno risparmiato. Il mio unico potere è divertire il popolo. Gli darò qualcosa che non ha mai visto prima. Non sono misericordioso! Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. E' un'esercito di 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 un'es